Il 95% delle auto che transitano in un flusso riparativo richiedono una verniciatura, una fase che diventa fondamentale perché determina la capacità produttiva della carrozzeria. Tre sono le operazioni che devono essere eseguite all'interno della cabina, la pulizia della superficie, l'applicazione dei prodotti e l'essicazione. Con il nuovo processo Spectro Only l'analisi e il dosaggio del colore sono realizzati all'esterno. L'analisi in particolare, che idealmente dovrebbe avvenire già all'accettazione, viene effettuata prima della preparazione del supporto. Così è possibile scegliere la soluzione migliore che limita la superficie da riparare e ridurre al minimo il rischio di errore. Per questo utilizziamo l'unico spettrofotometro a 5 angoli di lettura disponibile sul mercato. Solo con Rapid Match X5 è possibile ottenere un'analisi oggettiva del colore e valutare con l'aiuto del software Paint Manager circa 80.000 diverse formule colore. Secondo il processo Spectro Only, la valutazione e il dosaggio del colore devono essere affidati e specialisti. Per questo ogni procedura va studiata con cura. In caso di taglio netto, la valutazione del colore richiede l'applicazione preliminare di un cartoncino di prova. Provare la tinta ad ogni applicazione consente infatti di creare un archivio colore personalizzato e di velocizzare le tempistiche di valutazione del colore anche a distanza di tempo. Solo implementando questo metodo, quindi, la carrozzeria può aumentare la produttività giornaliera in modo significativo e senza nessun investimento aggiuntivo. L'esecuzione anticipata dell'analisi e del dosaggio del colore, ad esempio, consente di aumentare la disponibilità della cabina di verniciatura e di guadagnare tempo prezioso anche per il cliente. Il dosaggio e la valutazione del colore eseguiti quando l'auto è nei pressi o all'interno della cabina di verniciatura impattano negativamente sull'efficienza produttiva della carrozzeria. L'utilizzo di supporti colore cartacei uniti alle condizioni di luce non sempre consentono di ottenere un colore accurato al 100%. La cabina di verniciatura è l'attrezzatura che determina l'efficienza produttiva della carrozzeria. Ottimizzarla diventa essenziale. Con questo processo ho migliorato la ricerca del colore, sono diventato più produttivo e ho aumentato l'efficienza della cabina di verniciatura del 25%. Si dice che il tempo sia denaro. Sicuramente risparmiare tempo è un vantaggio. Spectro Only per la tua carrozzeria. Innovazione nel colore ed efficienza dei processi. La cabina di verniciatura è un vantaggio.